Presidente, avete attuato qualcosa in più, un passo in avanti anche contro la presenza di giovani donne intratta sulla statale Foggia Sansevero? Sì, il grido d'allarme di Monsignor Checchinato, Vescovo di Sansevero, ha richiamato la nostra attenzione su un problema annoso e che non è più tollerabile, quello del maltrattamento delle donne, soprattutto di giovani donne, dietro cui si annida un fenomeno malavitoso che non possiamo più tollerare. Abbiamo fatto il punto delle azioni, delle attività fatte nel passato con il progetto Roxana da parte della provincia, avviato nel 2000, che per vari anni ha promosso iniziative e azioni in questo senso. Abbiamo anche fatto il punto dell'attuale progetto ancora in essere presso Regione Puglia, la Puglia non tratta, questa è la denominazione del progetto, abbiamo visto che comunque delle attività sono state svolte. Adesso però il problema va sviscerato meglio, abbiamo ritenuto di dover coinvolgere in questo ragionamento le altre Caritas, perché c'era il direttore della Caritas diocesana di Sansevero, abbiamo ritenuto invece che il problema dovesse essere allargato anche alle altre Caritas, anche agli ambiti dei piani sociali di zona, quindi nella prossima riunione di giovedì prossimo allargheremo il tavolo a Regione Puglia, che non era assente, ma anche ai presidenti dei piani sociali di zona e ai direttori delle Caritas provinciali. Certamente è quella l'occasione per raccogliere un po' di idee e di iniziative da porre in campo e io ritengo che il profilo della sensibilizzazione, dell'educazione, il problema culturale sia non meno importante di quello sanzionatorio e repressivo. I sindaci oggi hanno in mano uno strumento, questa ordinanza sindacale, alcuni sindaci lo hanno adottato, altri no, antiprostituzione, che tanto può sul piano sanzionatorio, ma la problematica che investe anche un profilo di ordine pubblico non può non vedere coinvolta la prefettura e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Quindi anche il tavolo della prossima settimana sarà propedeutico a una richiesta formale che io come presidente di provincia, insieme agli altri soggetti coinvolti, inoltreremo al prefetto di Foggia di convocare con la massima sollicitude un tavolo tecnico in prefettura in cui tutti i soggetti interessati, quindi sicuramente le associazioni, sicuramente i piani sociali di zona, le caritas, le diocesi, l'ente provincia e gli altri enti territoriali, insieme in prefettura permettere a punto un'azione che sia coordinata e condivisa da tutti i soggetti. Perché poi c'è anche un racket delle piazzole, quindi anche questo va sgominato. Assolutamente, il fenomeno è molto complesso e riguarda vari profili e quindi io credo che in questo momento, per un senso di libertà, di rispetto della donna, di principi che sono per noi fondamentali e non negoziabili, irrinunciabili, noi abbiamo il dovere istituzionale di raccogliere, come abbiamo fatto, l'invito di Monsignor che è chinato ad attenzionare la problematica e a fare ognuno, per quelle che sono le nostre prerogative e competenze, il nostro dovere. Quello si è detto questa sera, è stata una riunione molto proficua, certamente di introduzione e di inizio, di avvio di un percorso molto complesso, molto lungo, certamente difficile, ma le cose difficili sono quelle più belle nel momento in cui si riesce a traguardare l'obiettivo.